e ragazzi buonasera ragazzi guardate amovistaggia amovistaggia metti la giacca no dove sto andando dalla pappa a me comunque ragazzi avete visto che il tavolo si è tolto l'avete visto? non c'è più il tavolo Siamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli con questo capello trendy Siamo agli sgoccioli ragazzi Ora si esce con i nostri amici e si va verso nuove avventure Quindi ora siamo a Martina e conosce Daniele Michelangelo Aspetta, aspetta, aspetta Io in versione cortina da un pezzo Ora li vediamo benissimo Sì perché qui oggi ha fatto un po' di neve Allora sai com'è Veramente? No Ciao Daniele Siamo sicuramente che siamo in Pugna Dove ci hai portato Michele? Vicino a Stetten Siamo a 10 km Ci sono due gradi Siamo vicino alla casa nuova di Saverio di Cia Che sarebbe questa qui? Tipica Tipica No dai siamo al Pinky Dai Siamo proprio Siamo al Pinky Molto umido Sì Stiamo guardando Di Daniele? Ti immagini? No 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 Poi è piccolo ingressino Ora entriamo dentro E dai ci colleghiamo E ci colleghiamo Serata pub E può fare Oltre che il dottore Michelangelo Può fare il giornalista? Vai Io sto proprio come i lord inglesi Oh Ma vedi quelli che aspettano il servizio Sono in linea Sono in linea E cominci a farlo Ragazzi dai Ci si vede dopo E siamo qui E' buio però dai Allora E questo si vede Perché ma accendiamo il faro dai Accendo Eh accendo Ah già dai C'è proprio per richiamare l'attenzione Ma dai Ecco Daniele Ecco Michelangelo Ovviamente noi vogliamo breccarci Ma non tanto Questa è una double Una 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 Grazie 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 Praticamente Non è molto forte No 6.0 E lei Io mangio E lei signora Lucia Signora Signora L85 Ma cosa sto mangiando? E' un appetito ragazzi Non puoi paninarsi Deve rallo Comunque Comunque Però non si vede Daniele E' il cosa Ti fa il video Tu vuoi la luce? Io ti do la luce Volevo immortalare questo momento Che il nostro Daniele Così salutista Sta mangiando le patatine Lo faccio Per voi due Grazie Grazie C'è Lui proprio Per noi Pure la prima volta Si è mangiata Le patatine Frette Però Ha la giusta compagnia Io vabbè Invece Mangio comunque Da schifo ogni giorno Quindi non sono Una novità E questo E' uno di noi Uno di noi Salutista a lui Ma qualcuno Vuole vedere La tattatura di Daniele Di nuovo Così dai Vediamo Perché ha fatto Qualche visual In più Ma c'è il cigno Stavolta Dai c'è il cigno No è vero è vero C'è anche il cigno 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 Dai Daniele cigno cigno C'è anche la musica C'è la musica Dai cigno vai 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 No senza 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 pelle Noi Ủami vai 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 Allora, allora, fai luce tu, fai luce, fai luce, fai luce, fai luce, fai luce, ragazzi c'è la musica, allora non possiamo fare tante cose perché la musica pirata. Dai, dai, madonna mia, quanto è la felicità? Madonna mia! Allora, per, allora Daniele cosa è? Eh, non lo so, c'è la cotonetta. Come si chiama il panino? Manhattan. Un morso al Manhattan. Madonna mia, a te? Eh, l'ingus è una hamburger stracciata nel crudo. Aspetta, vieni a te. Aspetta, vieni che Michelangelo ci ha fottuti, eh. Allora, a me è un... è un roche, a bia. È Michelangelo? Io ho un'insalata molto salutare con mozzarella, noci e altri cazzi vari. Non lo ho condita, dai, dai. Non l'ho condita, però mando la mozzarella, vedi? Ah, buona. E queste noci le vengono? La Martina Franca. Beh, sto qua io. Buona pezza. So qua. Va bene, dai, la birra sta scendendo piano piano a fiumi e... Buon appetito. Un buon appetito a tutti quanti, dai, buon appetito. Ciao, buon appetito. Ciao. È buono? Buono. Buono, vai. Vamos. Siamo arrivati a un momento serio, a un momento catartico della serata. Siamo a... Ciao. Ciao. Siamo sempre a Martina Franca. Sì. Adesso siamo in un bar, il bar da Danielino. Da Danielino. Che cos'è un dolce? Che dolce è? Il salame di cioccolato. Rrrr. Buono. Se non solo assaggiarlo, assaggiarlo. Oh, frui. Sto facendo così, sciocco. Grazie. Guarda, non è... Non è... Suina come penso io a voi. E io? Eh, spezza. Tu sei l'ultimo. Tu mi imbocca. Ma dopo dopo dopo. Ok, siamo qui all'assaggio. Allora, io l'avevo già spezzettato. Gnapp. Buono. Buono. Non avevo liquore, quindi... Buono. Raga, io riprendo e non assaggio però. Non è giusto così. Buono. Non manca il retrogusto della... Beh. Della mano, del vede amico. Ah no, un'animapia che si è fatta avanti. Aspetta. Nessuno se ne infrittava pregando. Vediamo. Buono. Qui ci scappa un devine. Non delizioso. Non delizioso. Tasty. Eh? Tasty. È sempre una cosa che... Non gioco a quel gioco. Complimenti, Daniele. Grazie. Complimenti, complimenti. Opera sua. Grande, Daniele. Opera sua. Che ci ha pensato anche a noi. Guardate qua. Poi, Daniele ha già deciso che farà il tutorial per questo salame al cioccolato e quindi poi vi farà sapere il link. Vogliamo aprire un canale io, Michelangelo. Ne abbiamo parlato in questi giorni, un canale di cucina. E mi volete fare la concorrenza? No, ragazzi, ciao, ciao. Lucia, ci faremo da rivali, guarda. Chi farà più visualizzazione. Appena voi smammerete, quindi toglierete... Vabbè, io farò le visualizzazioni tedesche, allora. Voi con l'italiano, io con le tedesche. Noi ci imporremo sulla piazza Tarantina. Allora, facciamo il tutorial del salame, allora. Certo. Vai. Io che visivo. Beh, ragazzi. Stavo saltando. Saltiamo, saltiamo. L'unico atletico a non salto. Salta, puoi devi saltare. Puoi devi saltare. Allora, io ringrazio Saverio che gentilmente ha preso dal bar qui questa tassa. Infusion. Questa tazza per le tisane. Non l'ha rubata. Non l'ho rubata. Ti devi fare, potresti fare la tisana la sera. Io le chiedo. Ha gentilmente chiesto al titolare lì di prendere questo e Saverio me l'ha regalato. Grazie, Saverio, grazie. Noi, sotto la foggia. Noi adesso, in realtà, ci eravamo un po' salutati, però dicevo a loro, a me non piacciono i saluti, ciao, addio, arrivederci. No, che addio. No, mi piace salutare le persone, come se le dovessi rivedere tra qualche giorno. Il giorno dopo, tra qualche giorno, sì. Beh, telecamere in tempo. Vai, Michelangelo. Un abbraccio, dai. E noi invece con te? Noi ci rivediamo domenica. Sì. Forse verrà anche un'altra amica. Ehi, a salutarci. Però che dici, se facciamo la chiusura qui, così c'è anche Michelangelo. Vai, vai, vai. Però questa volta non devo spaccare. No, non hai spaccato nulla l'altra volta. Allora. Quindi vieni di qua, fai così, facciamo così. Allora, facciamo te potre così. Sì. Il video di oggi termina qui. Sì. Dite un mi piace. Condividete. Lasciate un commento. Buonanotte a tutti. Buonanotte sotto la pioggia. Ciao. Ciao. Ciao.